Sono più di 5 milioni gli italiani che risiedono all'estero per lavoro, molti tra loro sono i cosiddetti cervelli in fuga, cioè persone molto specializzate che però trovano fuori dall'Italia lavoro e riconoscimenti. Gerardo D'Amico ha incontrato Ennio Tasciotti, codirettore del Dipartimento di Nanotecnologie Applicate alla Medicina del Methodist di Houston negli Stati Uniti. Vediamo insieme. Eccolo qui come è fatto uno dei 5 milioni arroti italiani che avevano all'estero. Esatto. E' andato un sacco di tempo fa. Dieci anni fa. Come mai ha fatto questa scelta? Perché seguivo un sogno che era quello di imparare a usare le nanotecnologie per applicazioni biomediche. Si è lavorato alla Normale di Pisa, quindi insomma è una delle eccellenze italiane. Poi il percorso? Il percorso ho fatto un dottorato di ricerca all'International Center for Genetic Engineering and Biotechnology di Trieste, un istituto sotto l'eggita delle Nazioni Unite, un altro degli istituti di eccellenza italiano. E lì mi ha iniziato a occuparmi di medicina molecolare. Quindi non più ricerca di base, ma ricerca applicata per la cura dei pazienti. E a che servono queste nanotecnologie che lei sta investigando? Le nanotecnologie ci permettono di somministrare il farmaco in maniera diversa. Noi oggi amministriamo il farmaco iniettandolo per esempio a endovena per un chemioterapico. Così il farmaco va dappertutto nel corso, anche alle cellule che non ne hanno bisogno. Le nanotecnologie ci permettono di creare particelle dentro le quali caricare il farmaco e mandare il farmaco in circolo dentro queste particelle che hanno una specie di sistema GPS che gli permette di riconoscere solo le cellule del tumore. Meno effetti collaterali, maggiore efficacia terapeutica e la possibilità di raggiungere aree del corpo che prima un farmaco non poteva raggiungere. E poi si occupa anche di rigenerazione tissutale. A che serve? Altro il Pentagolo è molto interessato a quest'ambito di ricerca, lei ha avuto più di 10 milioni di dollari. Quasi 15 milioni negli ultimi 8 anni. Ma perché gli interessa così tanto? Perché vogliono aiutare i soldati feriti a recuperare le loro funzioni. Al momento ci sono un sacco di amputazioni dovute al fatto che l'osso non rigenera facilmente. Abbiamo deciso di creare nuovi materiali che invece sono in grado di convincere le cellule staminali del corpo a rifare osso. Usando nanomateriali riusciamo a parlare alle cellule e a convincerle a fare osso in modo completamente innovativo. Completamente innovativo, lei però ha dovuto o voluto farlo dall'altra parte del mondo, quindi negli Stati Uniti. Perché? Ho dovuto. Perché negli Stati Uniti c'è una cultura multidisciplinare della ricerca che al tempo non esisteva in Italia, sta arrivando anche qui. Ma per risolvere un problema così complesso non basta solamente sapere una cosa. Serve ingegneri, fisici, chimici. Il sistema. Serve un sistema organizzato che permette di lavorare in sinergia. E questo era uno dei motivi. Invece il sistema italiano che lei ovviamente ha conosciuto, perché questo sistema non funziona? Un po' perché ci sono meno soldi qua di quelli che sono a disposizione in America. Il Dipartimento della Difesa che hai citato prima mette a disposizione un miliardo di dollari l'anno sulla ricerca medica. e non hanno paura di investire in progetti molto azzardati. A Giuston, al Methodist, a lei la chiamano reperto storico. Come la chiamano? La chiamano il fossile. Il fossile. I miei studenti, perché? Perché lei addirittura ha 39 anni, quindi è vecchissimo, no? Ho un gruppo, intenzionalmente ho creato un gruppo di giovanissimi. Volevo persone che non avevano già un'idea precostituita della scienza. Il suo gruppo è multietnico, multinazionalità. Gente da 15 nazioni diverse. Ci sono gli italiani? E parecchi italiani, quello devo dire la verità, sono una delle forze trainanti dell'intero laboratorio. Parte di arrangiarsi a cui voi venite forgiati sin dal liceo, diciamo, vi aiuta in qualche modo? Assolutamente. Lì è dove forse gli americani peccano un po'. Loro vanno per procedure. A, B, C, D. Se B non c'è, non funziona, si blocca tutto. L'italiano, lì invece, riesce in qualche modo ad agirare e a trovare la soluzione. Un vecchio di 39 anni come lei, se lei fosse rimasto qui in Italia, adesso che cosa farebbe? Probabilmente sarei un ricercatore in università italiana. 1200 euro al mese, se gli arrivano quando arrivano. A parte lo stipendio, dubito che avrei avuto la possibilità di gestire progetti così ambiziosi. Questa è una delle bellezze dell'America. Non gli interessa sapere chi sei, da dove vieni, quanti anni hai. Se lo sai fare, te lo mettono in mano. E questo è quello che è successo. Per formare uno come lei, laureato, quindi poi con il post laurea, lo Stato italiano spende 500.000 euro dall'asilo alla laurea. Ah, lo so. E poi però lei... Ci regalate. E' un peccato. Questa è una delle cose che l'Italia deve un attimo cambiare. Cercare di riportarci indietro. Noi torneremo tutti molto volentieri. Tutti quelli italiani che lavorano a Houston, siamo tutti qui. Ci manca l'Italia tantissimo. Bisogna creare le opportunità per riportare indietro tutte queste menti. Lei a che condizioni tornerebbe? Ma forse la condizione più importante è quella di avere indipendenza dal sistema che già esiste. Lei qui in Italia per partecipare ai TED, Rai News e Media Partner di questo importante evento in cui si spiegano le idee che veramente contano, quelle che faranno innovazione nel destino dell'umanità. Lei di che parla? Io parlo di un concetto completamente nuovo. Per vincere il tumore bisogna pensare come una cellula. E la base di tutto il discorso è che oggi facciamo medicina uccidendo le cellule. Domani potremo fare medicina parlando con le cellule e convincendola a fare qualcos'altro. Quando torno negli Stati Uniti? Riparto domenica. Toccate fuga. Ma spero di tornare di nuovo in Italia presto perché questo è sempre il posto più bello del mondo secondo me. Riparto domenica. Riparto domenica. Ripopen circa come una misera. Riparto prodig정azione per iphi il açor!!! Riparto domenica. Ho scontato questo monete?